Oggi abbiamo con noi una pistola della serie Rudeus prodotta dalla Secutor che appunto è una manufattura veramente ottima delle pistole da soft air si può dire Elite quindi andiamo aprire la nostra scatolina come possiamo vedere dall'immagine abbiamo una replica della M1911 versione tattica moderna prendendoli in mano abbiamo l'involucro della pistola come anche il carrello completamente in metallo questa versione della pistola come possiamo vedere è la Parvis Magna quindi ogni pistola diciamo ha il suo nome quando riguarda il marchio di Osecutor come possiamo vedere la classica sicura della M19 prima e seconda sicura una volta che il crano è armato quindi abbiamo già ho installato un redot appunto che vogliamo la possibilità di accenderlo per aumentare la potenza col più oppure col meno per addirittura andarlo a spegnerlo ovviamente all'interno della scatola vi è anche la batteria per il redot possiamo notare una filettatura anteriore per appunto inserire e montare un silenziatore abbiamo una slitta weaver da per poter inserire dei nostri accessori come laser torce e quant'altro possiamo vedere come è fatta veramente bene dal punto di vista della manifattura andiamo a tirare fuori il nostro caricatore abbiamo un caricatore a co2 quindi un pratico potente da utilizzare anche tutto l'anno non solo nell'estate o inverno non abbiamo problemi col co2 per quanto riguarda le temperature e ovviamente come dicevo scarellante dopo all'interno della scatola possiamo trovare anche dei pezzi di ricambio che ci offre alla casa quindi veramente un ottima pistola fantastica da vedere e da utilizzare